Ciao, sono Ciro, Gelato Chef in Cioccoletta Accade in Milano Oggi vedremo insieme come realizzare una stracciatella con scaglie croccanti di puro cioccolato Una modalità diversa, ma allo stesso tempo semplice e veloce che vedrai ti sorprenderà Iniziamo preparando il foglio di cioccolato Dopo aver fuso 300 g di cioccolato, realizziamo una lastra stendendolo su una teglia con all'interno già un foglio di acetato Battiamo leggermente la teglia per appiattire il cioccolato e la mettiamo in freezer per 5 minuti Una volta indurito, lo si gira sottosopra e lo si rimette in freezer o anche in frigo fino al momento dell'utilizzo Mantechiamo il gelato al fior di latte Nel frattempo spezzettiamo il nostro foglio di cioccolato e nel momento dell'estrazione lo inseriamo all'interno del prodotto in più riprese Teniamo da parte qualche scaglia più grande che ci servirà dopo per decorare la vaschetta Grazie a tutti